Il campo basso ha bocciato il centrodestra, adesso le componenti di questa sconfitta vanno analizzate, vanno capite, ma è chiaro, il risultato è talmente evidente che va anche al di là dei meriti pur notevoli del candidato sindaco dei 5 Stelle. Dopo la debacle di Campobasso è durissimo il giudizio di Michele Iorio rispetto alle strategie adottate dagli alleati del perimetro di centrodestra. Per l'ex governatore le motivazioni della sconfitta sono talmente profonde da non essere ascrivibili ad un'eventuale debolezza del candidato di centrodestra. La batosta è stata talmente forte, la distanza talmente significativa che non si sarebbe risolta con nessun altro esperiente. È il centrodestra che deve fare il mea culpa e probabilmente bisogna verificare perché a Campobasso non siamo stati creduti. L'analisi introspettiva diviene ora improrogabile. Al governatore toma il compito di riprendere la rotta. Le responsabilità sono di tutti, certo, anche di chi ha scelto, di chi ha consentito, di chi ha detto di sì, tutti siamo responsabili di qualcosa che non ha funzionato. Io credo che il centrodestra perdente a Campobasso sia un campanello d'allarme. Spero che il presidente Toma ne prenda atto e trovi le possibilità di far ricredere non solo i cittadini di Campobasso ma dell'intera regione. Sembra di capire che comunque ci saranno riverberi anche a livello regionale. Credo che per chiunque fa politica una vittoria o una sconfitta vanno analizzate. La vittoria di Termoli è stata un dato molto positivo. Anche lì io credo che il centrodestra ha utilizzato gli errori marchiani visibili del centrosinistra nella città di Termoli che ha ostentato sicurezza, sicumera direi più che sicurezza, e forse risultato insopportabile da parte dei cittadini. Anche lì c'è stato un risultato complessivo avvalanca, credo, a favore del centrodestra. Ecco perché io credo che le cose vanno viste per quelle che sono e vanno capite per quelle che sono. Il dato di Campobasso è sicuramente politicamente più rilevante. Il consigliere Michele Iorio per l'ingresso a seguito delle favorevoli vicende in Consiglio augurandogli a nome mio...